Allora, la FIMER tratta di inverter per l'energia solare, quindi ovviamente un tipo di energia che con la transizione ecologica sarà ancora più importante e fondamentale per il nostro sistema paese. Quindi ovviamente si tratta di un futuro industriale del tutto roseo, ancora assolutamente in questo senso. Mentre invece l'iniziativa che faremo domani proprio per tenere alta l'attenzione su questo argomento è quella di alla rotonda del Valdarno, prima di entrare in autostrada ci sarà un volantinaggio da parte di tutti i lavoratori per far conoscere anche alle persone, proprio ai cittadini in maniera ancora più precisa cosa sta succedendo all'interno dell'azienda. Per la FIMER la situazione non è ancora molto chiara e noi stiamo davvero cercando di concentrarci sull'aiuto che ci può arrivare dal governo che in questo momento è un po' disattento a questa avvertenza. Dopo il primo incontro che c'è stato con il MISE purtroppo noi aspettavamo un'altra convocazione, quindi i nostri responsabili del settore aspettavano una convocazione che non è arrivata ed è per questo che l'iniziativa di domani è importantissima e fondamentale per tenere alta l'attenzione. Dovevamo avere informazioni circa la ripresa dell'attività con misure precise che dovevano arrivare da parte dell'azienda, queste risposte non sono arrivate e noi invece abbiamo una necessità che ci sia davvero chiarezza perché non possiamo essere tranquilli rispetto al futuro di un territorio così ampio e soprattutto di tante persone che hanno necessità di lavorare in quel settore. Poi è davvero incredibile che per quanto riguarda un settore che anche domani sarà importante e sicuramente sulla cresta dell'onda rispetto alla tante attività che devono essere fatte, certamente non si può pensare che per mancanza di investimenti, per incapacità di progettare il futuro non ci siano risposte.